Bene, leggiamo il prossimo commento, ci scrive Amedeo Sberla da Diostuni Ciao Gene, sono un appassionato di cinema, tu l'hai visto Joker, il film su quel pagliaccio squilibrato? Il film su quel pagliaccio squilibrato? Joker? Certo che l'ho visto, ma io sono rimasto deluso perché mancava la parte in cui Joker fonda Italia Viva Purtroppo non c'era